Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse. La mia filosofia era sempre stata questa. Non fare mai niente per niente. Sava santiere. Dai ragazzi che si è andati per la messa. E lei che l'avrà già? Imprenditori. Ce l'aveva nel sangue lo spirito imprenditoriale. E i bastonati. A sposa. Osamu. E' raggiunto il momento di allargare la rete. Stanno organizzando qualcosa di grosso. L'eroina è il futuro, santo. Riempiamo le strade, le piazze, i salotti di roba. A otto la tagliate questa, a otto, è buonissima. A otto! E' la prima volta che esco con un lucco come te. Che intendi? Un imprenditore? Un irrisolto. Non ci pensavo a fare delinquente di mestiere. Volevo una famiglia, una casa e un'attività. Un imprenditore. Io so chi sei, veramente. Lei non sa di cosa è capace. Pentiti, santo. Pentiti. Pentiti. Ora capisci perché deve blocare per lui. Mi prometta che lo farà. Di te. Di te. Di te. Di te. Di te. Di te. Ci rocci. Questi perverti. Un di te.